che c'è? tu sai mangiare fuoco rene? che mi conta a me? ma cosa sa mangiare? dai! vedi! vedi! maaaah! c'è la vino da se mangiare vedi se mangiare poi maaaah! maaah! vuoi che vedi se mangiare la carabba? vuoi qui? vedi! maaaah! maaaah! ahahah! vedi! vedi! aspettate che c'è spazzione no no aspettate che c'è spazzione maaah! 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 vedi! 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 ahahah! vedi! ora c'è una ciumuzza con il peggio maaah! 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 in diretta da domenica questa è colazione di mattina maaah! la migliore colazione maaah! 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 bellissima grazie! grazie! io che c'è una città ora due tre quattro dieci ho preso ho preso la prima volta che vieni su facebook che ora è capire un'occhessa che ora è capire un'occhessa Grazie a tutti.